Presidente Macalli, il Presidente dell'Arezzo si è detto convinto che l'Arezzo sarà ripescato sicuramente? Guardi, sarà sicuro lui, è soltanto lui. Pensare ai ripescati adesso è una follia, una follia pura e semplice. Mi pare che l'Arezzo giochi in un mondo dei dilettanti, quindi che dai dilettanti prima di tutto. Noi abbiamo le nostre regole. Quindi le retrocessioni saranno bloccate? La riforma è una riforma che ha delle sue regole e quindi ha anche delle regole sui pescaggi e quindi sono regole federali che tutti conoscono e quando, se fosse necessario, verranno tranquillamente applicate dalla Federazione Italiana di gioco calcio, non certamente da nessun tipo di Presidente che crede di sapere tutto e non sanno niente. Tutto qua. Basta i regolamenti quando usciranno dalla Federazione Italiana di gioco calcio, punto. Le reste sono solo delle chiacchiere, come sempre, chiacchiere e basta.